Musica Terrazza incontra Matteo Renzi a Genova per questa tourne elettorale che ormai si sta per concludere non è una cosa normale, o meglio, non è come tutte le altre città perché Genova comunque c'è una relazione particolare anche con chi governa, con Marco Bucci l'avete sostenuto i vostri candidati, quindi è una situazione un po' diversa rispetto allo schiama nazionale Beh, è una situazione diversa per tanti motivi, anche perché ad esempio qui a Genova vediamo dei risultati dell'azione di governo fatta insieme alle varie amministrazioni io tutte le volte che arrivo a Genova dopo una tragedia come quella ad esempio drammatica di ieri nelle Marche penso al lavoro che abbiamo fatto insieme sul Bisagno, penso al mezzo miliardo di euro che abbiamo messo perché questa città fosse finalmente messa in condizioni di sicurezza dunque tornare a Genova ha sempre un suo perché farlo dopo la vittoria di Bucci che abbiamo sostenuto a maggior ragione però la cosa interessante sarà la vittoria non tanto numerica ma politica del terzo polo insomma siamo la vera novità di questa elezione Adesso ci arriviamo, intanto per chiudere la questione genovese il terzo polo poteva essere più ampio a un certo punto era sembrato quasi possibile che la convergenza portasse anche a qualcosa dell'attuale centrodestra mi riferisco ovviamente ai centristi di Giovanni Totti non è andata così, è dispiaciuto, non è dispiaciuto, era nella natura delle cose che aveva nella testa di stare ancora nel centrodestra e quindi gli auguriamo buon lavoro ma lui ha preferito stare con Meloni e Salvini gli ha un po' criticati nel periodo preelettorale io penso che un moderato non possa stare con Salvini e Meloni così come penso che un riformista non possa stare con Fratoianni e Di Maio ecco perché ritengo che noi siamo molto più coerenti di tutti gli altri detto questo nessuna polemica, ragioniamo di contenuti sanità, li mettiamo o no a 37 miliardi di euro per il MES noi diciamo di sì, Salvini e Meloni dicono di no Conte dice di no parliamo di lavoro, noi siamo per il lavoro, non per il reddito di cittadinanza tutti gli altri, Salvini, Di Maio per la sinistra che già dire Di Maio per la sinistra mi fa un po' ridere e Conte hanno lavorato contro il reddito di cittadinanza e contro le politiche per il lavoro insomma distinguiamoci sui contenuti il terzo polo è nato molto rapidamente ma i tempi erano molto stretti è destinata a durare? sa la questione dei due galli nel pollaio è vecchia io ho fatto un passo indietro per far sì che questo progetto partisse dopodiché abbiamo uno scadenzario molto preciso domenica prossima 25 settembre si vota ed è secondo me il voto più logico per chi vuole votare di testa, non di pancia, non di rabbia poi ci sono le elezioni del 2024 le europee Salvini e Meloni stanno con Orban e Le Pen Conte è una parte del PD guarda a Mélenchon alla sinistra radicale noi stiamo con Macron allora la costruzione di queste grandi famiglie europee Renew Europe la nostra sarà un pezzo fondamentale della scommessa di medio periodo e sul lungo periodo se arriveremo come io auspico ad avere un sistema elettorale come quello dei sindaci cioè balottaggio chi vince e governa a dieci anni allora di conseguenza mi lasci dire che io credo profondamente credo fortissimamente credo che con un sistema balottaggio noi potremo fare esattamente quello che ha fatto Macron cioè vincere al centro cioè lasciando gli estremi da soli e puntando sul centro come si fa in Francia però in Francia c'è il semipresidenzialismo e io credo che si possa tranquillamente andare verso l'elezione diretta del presidente del consiglio così come sogno l'elezione diretta del presidente della commissione europea ecco questo tipo di investimento istituzionale per chi come noi da sempre ha chiesto le riforme costituzionali non è che una conferma è la Meloni che ha cambiato idea è Conte e il 5 Stelle che debbono cambiare idea noi siamo sempre stati dell'idea che il cittadino deve scegliere ci ho pure perso Palazzo Chigi per questo Lei è stato un grande leader dal punto di vista mediatico della forza elettorale però poi oggi è visto anche come un grande conoscitore delle tessiture del Parlamento che Parlamento nascerà? perché oggettivamente in questo rosatellum il rosato è dei vostri c'è dentro una componente di uninominale che penalizza fortemente il terzo polo rispetto al centro-destra soprattutto è un po' al centro-sinistra Vediamo se lo penalizza nel senso che intanto questa legge elettorale voluta dal Partito Democratico da Forza Italia e dalla Lega non è la legge elettorale che io sognavo io avevo fatto un'altra legge elettorale avevo messo la fiducia su un'altra legge elettorale quella con il ballottaggio quella dei sindaci chi vince governa in questo caso Giusebucci, prima Radori e tutti gli altri che si sono succeduti a Genova come nelle altre città dopodiché questa legge è chiaro che può far prevalere uno schieramento sull'altro ma finché non c'è l'elezione diretta del Presidente del Consiglio con lo schema a doppio turno sono tutte chiacchiere perché il Parlamento decide allora io sogno una distinzione sui contenuti io vorrei che si parlasse di come dare una mano alle famiglie che non arrivano alla fine del mese la prima cosa che ho fatto io sono stati gli 80 euro per il ceto medio oggi noi abbiamo un problema con l'inflazione che non bastano nemmeno gli 80 euro però sembra che la politica parli di tutt'altro una campagna elettorale in cui si parla di Peppa Pig e di discussioni abbastanza astratte La porto in Liguria lei è a Primo Canale la casa delle battaglie sulle infrastrutture nel suo partito c'è Raffaella Paeta che è stata fino adesso Presidente della Commissione di Trasporti la quale noi ci siamo molto appoggiati per spingere le nostre istanze siamo ancora un'isola caro Renzi quindi serve dalla pattuglia che manderete in Parlamento un aiuto concreto per la nostra regione il terzo valico deve essere completato il quadruplicamento deve essere ad alta velocità c'è il pezzo della ferrovia di Ponente da completare c'è la Pontremolese insomma le partite le autostrade non le recito neanche perché sono un disastro che pian piano speriamo saranno un po' sistemate insomma serve un aiuto lei promette che ce lo darà questo aiuto? Io non è che prometto io candido Raffaella Paeta che è candidato al Senato non solo in Liguria come pure Cosimo Ferri che ha una lunga esperienza di rapporto nello spezzino soprattutto è candidato alla Camera capolista noi candidiamo persone che queste battaglie sulle infrastrutture non è che le promettono noi le abbiamo fatte non siamo noi quelli che hanno detto no alla gronda non siamo noi quelli che dicevano no alle infrastrutture non soltanto in Liguria lei pensi al no dalla TAV al TAP dalle trivelle al regassificatore di Piombino quelli del no sono gli altri quindi noi da questo punto di vista siamo l'unica garanzia perché le cose si facciano poi c'è un problema di tempi perché per rimanere in discussione sulle questioni del dissesto idrogeologico lei sa che a Senigallia nelle Marche questo torrente che ha tracimato questo torrentaccio è il Misa lei sa che il mio governo nel 2014 aveva preso questa cassa d'espansione l'aveva messa in cima alle opere da finanziare costa 45 milioni e 100 mila euro e sa quanti soldi avevamo messo? 8 miliardi di euro i soldi c'erano però la burocrazia non li ha spesi però è stata chiusa l'unità di missione che con Renzo Piano altro grande genovese avevamo voluto Casa Italia Italia Sicura allora la vera questione diventa non chiedete a noi di combattere per le infrastrutture scegliete voi chi sulle infrastrutture è credibile gli altri promettono noi abbiamo fatto Matteo Renzi grazie e buon lavoro grazie a voi e buon voto grazie a tutti Grazie a tutti.